Musica Musica Giuseppe, uno dei soci della Fitlab Caserta qui in Via Labriola, una grande novità si può dire dal punto di vista del fitness a Caserta, innanzitutto da dove nasce questa idea e qual è la mission per questa nuova avventura? La Fitlab Caserta SRL nasce due anni fa quando dall'idea di tre soci c'è l'esigenza di creare uno spazio personale dedicato al fitness, alla preparazione atletica, alla preparazione del calcio e dall'idea quindi di creare uno spazio riservato dove ognuno può sentirsi libero di allenarsi in totale libertà e con qualsiasi forma di allenamento. Tre soci con l'SSD ovviamente per il bene dello sport e degli sportivi della provincia di Caserta, locali anche molto grandi, facilmente raggiungibili, con la possibilità di ospitare tante persone, tanti sportivi ma anche tante altre persone che amano semplicemente lo sport. Sì, abbiamo scelto questo locale innanzitutto per la visibilità, è un locale che affaccia su due strade, che fa angolo, è un locale di una zona molto servita di passaggio e abbiamo scelto anche questo locale in via della sua luminosità proprio per creare a tutti i clienti che abbiamo una certa visione, quasi a 360 gradi si può dire, dell'ambiente circostante e quindi sentirsi diciamo proprio in zona aperta. Sì, per quanto riguarda i nostri allenamenti sono degli allenamenti principalmente a corpo libero, abbiamo scelto per quanto riguarda la nostra sala delle macchine per l'allenamento funzionale, come potete vedere alle mie spalle ci sta qualche attrezzo per quanto riguarda l'alta intensità, macchine cardio, tapirulan, bike, vocatore, littica, macchinari per il recupero per quanto riguarda la flexibility anteriore e posteriore, qualche macchinario per la forza, vocatore e climb. Quindi macchine molto diciamo all'avanguardia, macchine che permettono allenamento sia per principianti sia per coloro che sono in uno stato avanzato di allenamento. FitLab Caserta, Massimo Carnevale, si può dire un nome, una garanzia, uno sportivo, un casertano doc che ha portato in alto il nome di Caserta. Non solo calcio, Massimo, questa nuova esperienza, nuova avventura già collaudata e rodata. Perseverare va sempre bene perché diciamo che per il sottoscritto i miei due soci ma soprattutto due amici abbiamo perseverato per raggiungere questo obiettivo, questo sogno che avevamo nel cassetto e dopo un bel po' di tempo, un po' di sacrifici si siamo riusciti, siamo riusciti a creare una cosa molto bella per Caserta ma soprattutto per quanto mi riguarda a livello personale farla nel rione dove mi ha visto nascere. Sei sempre stato un visionario, il calcio è stata la tua passione, lo è ancora, scuola calcio, adesso questa palestra, questo centro fitness ha molto molto all'avanguardia, vediamo anche i macchinari di grandissima qualità e Massimo Carnevale insieme agli altri due soci è pronto ad accogliere, l'avete già fatto, avete aperto le porte ai cittadini, agli sportivi, alle città di Caserta. Ma sì, sicuramente quello che è, il mio lavoro resta, diciamo che io come lavoro comunque ben sai, comunque faccio l'allenatore, poi ho una scuola calcio molto avviata che stiamo portando avanti e insieme ai miei amici abbiamo cercato di diversificare perché io comunque mi occupavo di calcio, di tecnica individuale, di allenamenti comunque preditiro per i ragazzi che si accingono ad andare nei professionisti, poi avevamo Vincenzo Paritario che comunque svolgevo oltre la scuola calcio un ruolo di personal nelle palestre, avevamo Giuseppe Papa che è comunque un laureato scienze motoriche che comunque si occupa di preparazione atletica con squadre direttantistiche ma anche post-infortuni. Quindi ci mettiamo insieme e decidiamo comunque di aprire questa bella realtà dove insieme potevamo offrire comunque ai cittadini di Caserta ma soprattutto agli sportivi di varie discipline, vari modi di allenamento. Infatti qui oltre alla forza funzionale comunque prepariamo anche persone con corsi con preparazione atletica, faremo tecnica individuale al coperto, forza funzionale, quindi abbiamo cercato di diversificare i lavori oltre ai vari corsi che ci saranno tra pilates, kickboxing, più avanti può essere che ci saranno corsi di spinning e dipende comunque dall'affluenza della gente come sarà. Enzo Paritario, Fitlab Caserta, una nuova metodologia di allenamento, si può dire grande tecnologia come possiamo vedere nelle immagini, anche però grande calore da parte vostra, tre soci che hanno aperto come si diceva con Massimo Carnevale le porte a Caserta, ai cittadini e gli sportivi. L'idea è nata per mettere insieme più discipline e da questo progetto sono nate dei programmi di lavoro che sono specificate all'interno della nostra palestra. Abbiamo una sala open dove l'atleta, il cliente può venirsi ad allenare con dei macchinari, degli attrezzi all'avanguardia. Non abbiamo macchine specifiche perché abbiamo improntato il nostro lavoro su un lavoro prettamente fisico e prettamente atletico. Infatti dietro di me c'è la parte cardio dove abbiamo situato delle macchine per continuare il lavoro. Il cittadino, il casertano, ovviamente lo sportivo nella fattispecie, perché può venire alla Fitlab Caserta? Perché ci sono macchinari all'avanguardia ma anche perché ci sono istruttori che seguono passo passo? Allora il cittadino è invogliato a venire, infatti in questa prima settimana abbiamo avuto una risposta molto importante. La Fitlab è improntata su un lavoro uno a uno. nel senso che ogni atleta, ogni cliente che viene all'interno della palestra è seguito direttamente da uno dei tecnici che ci sono all'interno della palestra. L'ambiente come vedrai è molto familiare, abbiamo la disponibilità di poter contare su persone altamente qualificate e poi come abbiamo detto prima ci sono delle macchine attrezzate per poter fare qualsiasi tipo di lavoro.